Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Questo per una parte sarà un Consiglio comunale aperto, dove è possibile intervenire, dopo avremo un'altra procedura che lo riporteremo a essere un Consiglio deliberante. Do la parola al Segretario. Vini, Ferrari, Severi, Borghi, Rivi, Boni, Manfredi, Valentini, Spadaccini, Martinelli e Sadichi. Fiori, Davoli, Figoni, Caselli, Maioli, Vassallo, Davoli e Erika. Erika. Padaccini. Padaccini, sì. Sì, anche gli altri hanno impegni di lavoro, quindi non ci siamo al completo. Bene, noi questa sera con questo Consiglio comunale conferiamo la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo. Ti tocca avere un altro sindaco questa sera, quindi non è solo il sindaco di Fiorano, e quindi vorremmo procedere con questo Consiglio comunale proprio per conferirti la cittadinanza onoraria di Castelnuovo Monti. Grazie. Grazie. Quindi io faccio un breve intervento, poi ho chiesto all'amico Gianluca Marconi di ricordare appunto Angelo Vassallo perché hanno avuto momenti di lavoro assieme, poi dopo chi vuole intervenire sia dal punto di vista dei consiglieri ma anche del pubblico, affinché un Consiglio comunale aperto è possibile farlo. Quindi iniziamo questa cerimonia di conferimento. Si può uccidere un uomo, non le sue idee. Questa è una frase di Thomas Sankara, un grande politico africano, primo presidente del Burkina Faso, ucciso nel 1987 nell'ambito di un colpo di Stato. È una frase emblematica che oltre a trasmettere un concetto molto bello ci lascia anche un impegno, raccoglie il valore, i progetti di chi, portandoli avanti con coraggio e dedizione, viene fermato con la violenza. Quella di Angelo Vassallo è stata un'esistenza eroica, nel seno di ogni sforzo possibile per valorizzare e tutelare il territorio che amministrava, un territorio meraviglioso, difeso dalle speculazioni edilizie ambientali, nell'obiettivo di dare nuove prospettive alla popolazione locale. Angelo ha sempre voluto farlo attraverso un'idea di sviluppo che fosse rispettoso dell'ambiente, del mare, della terra, dei prodotti e dei produttori del territorio, dell'uomo e di ogni essere vivente. La morte di Angelo è una morte violenta, un omicidio di stampo camorristico, attende ancora che sia fatta luce sugli esecutori e mandanti. Ma non ha fermato il suo impegno, il suo insegnamento, un insegnamento che è diventato scuola, grazie alla volontà di trasmetterlo da parte di tanti amministratori in tutta Italia, in primo luogo dalla sua famiglia, che ha sempre condiviso le sue azioni e i suoi progetti. Ringrazio qua davvero Dario e Massimo che si stanno battendo da quel triste giorno proprio per dare un volto agli assassini di Angelo Vassallo. La scuola di legalità intitolata ad Angelo Vassallo in questi giorni siamo fieri e orgogliosi di ospitarne per la prima volta che siamo a Castelnuovo. Grazie alla sua famiglia che ha proseguito e rinsaldato l'amicizia con il nostro comune. Amicizia nata in particolare dal rapporto che si era creato tra Angelo e l'ex sindaco Gianluca Marconi, che ringrazio perché ho colto subito il nostro invito a partecipare questa sera, portandoci la sua preziosa testimonianza. Ci è sembrato un atto di forte significato coronare questo rapporto solido, che ormai prosegue da tanti anni, con un passaggio di tutto il Consiglio Comunale, e che ringrazio perché il Consiglio Comunale è tutto assieme aderito all'unanimità a questa decisione nostra, a questa intitolazione. Per una scelta che non è semplice, formalità. L'assignorazione di Dario Vassallo e delle cittadinze honorarie di Castelnuovo Monti, quindi non è un atto formale, è un atto dovuto che lo meriti e te lo diamo davvero con tutto il cuore. Una scelta che significa anche abbracciare la visione della scuola di legalità, mettere l'interesse del cittadino al centro per educarlo a rispetto dell'ambiente e delle persone. Quindi grazie a Dario Vassallo. Quindi darei la parola, scusate ma l'emozione è forte, anche perché volevo farti questa sorpresa, perché tu dicevi sempre io ho il mio sindaco di Fiorano, adesso devi dire ho due sindaci, i miei due sindaci, quindi è un riscatto che ho voluto portare avanti. Quindi darei davvero la parola a Gianluca Marconi per ricordare le sue esperienze. Buonasera a tutti, non vi nascondo anche la mia oltre quella di Enrico Conmozione stasera, soprattutto per il ricordo di Angelo, che ho conosciuto e con cui ho avuto la fortuna di vivere tantissime esperienze internazionali all'estero soltanto purtroppo per due anni, ma sono stati due anni talmente intensi che me l'hanno, ed era difficile che non accadesse, penso a chiunque lo abbia conosciuto, me l'hanno davvero lasciato nel cuore, in modo molto importante. Angelo Vassallo è stato definito, l'abbiamo conosciuto a livello anche di opinione pubblica come il sindaco pescatore, il paladino della legalità, come colui che ha saputo rivoluzionare un piccolo comune della costa dell'Accidente e portarla ad un modello di città del buon vivere, del rispetto dell'ambiente, della legalità. Angelo, e lo voglio ricordare proprio così, come insieme a tanti altri amministratori di quel periodo l'abbiamo incontrato, era un uomo che soltanto parlargli, a vederlo, ti dava davvero serenità, sicurezza, in tante occasioni, anche in momenti relativamente difficili, come potrebbero essere quelli della vita amministrativa di una rete come quella della città Slow, era sempre la persona che trovava la soluzione, che sapeva mediare, anche in momenti difficili, anche in consensi internazionali. Una persona a cui non si poteva non voler bene, una persona che davvero ti dava sicurezza, amicizia, quel suo volto, mi sembrava, Dario stasera un po' di rivederlo, vi assomigliate, che poteva nell'apparenza all'inizio sembrare anche un po' burbero, che invece nascondeva una dolcezza infinita, quel volto del pescatore. Io ho scritto due righe per ricordarlo e mi piace vedere quel viso scolpito, dicevo, dal mare, dal vento, dal sole, lui che veniva da una famiglia di pescatori, che per tanti anni ha fatto il pescatore. E molto probabilmente anche questo vento del mare, il sole, la vita del pescatore, l'ha forgiato, l'ha plasmato per essere un grande amministratore, un modello di amministratore non solo del sud, ma di tutto il nostro paese e non solo. E vi assicuro che questa considerazione l'hanno avuta molti colleghi di molti paesi, non soltanto europei, ma sapete Angelo è stato il pioniere in Cina, in Corea e in tanti altri appunto paesi del nostro mondo, perché Città Slow ormai si estende, direi, dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti, all'Asia, alla Corea, all'Europa, al Sud Africa, eccetera. E Angelo rappresentava talmente bene questa vocazione delle piccole città del buon vivere che un anno, sempre nel 2010, purtroppo questo terribile anno, prima di andare insieme in Corea, c'era l'Assemblea Nazionale di Slow Food con Carlo Petrini a Padova o a Verona, adesso potremmo scordarmi, non mi ricordo bene se era Padova o a Verona, a Tabano Termine, bravo, grazie. Era in Veneto, dai, era in Veneto. E io non potevo andare perché, insomma, avevo anche il sindaco Castelnuovo, giustamente, che era impegnativo, grazie anche alla minoranza, che più o meno era sempre la stessa, che mi teneva sempre legato ai doveri istituzionali. E non andai, perché avevo anche altri impegni così, e andò a Angelo. E ero sicuro, insomma, di aver fatto, poi le scelte si fanno anche davvero, no? E poi dopo abbiamo visto i risultati. Insomma, ebbe un successo enorme. Era un momento anche in cui le città slow avevano qualche difficoltà a rapportarsi con Slow Food, incominciavano un po' le prime tensioni, si ci riscostava forse troppo da quello che era Slow Food, da quando si partì con le quattro città, insomma. E Angelo, con una semplicità meravigliosa, c'è anche il suo intervento, vi ho lettato, e spiegò cos'erano le città slow, ma più che altro spiegò cos'era lui sindaco di Pollica, cosa faceva, cosa aveva fatto a Pollica. E mi ricordo che Carlo Petrini, dopo quell'incontro lì, ci sentimo per altre cose, oltre a essere rimasto davvero, ma non si poteva fare diversamente, ecco, impressionato da questo uomo, da come parlava, insomma, ecco, da come parlava della sua terra, dei suoi cittadini, della sua Pollica, la vedevi lì, insomma, no, da Ciaroglia, al Porto, da Pioppida, tutto quello che ha fatto, insomma. Quindi davvero, mi ricordo molto, molto, molto forte, e io ringrazio davvero l'amministrazione comunale, Enrico, tutta la Giunta, per averlo ricordato in questo paese, sia col Parco, sia con la Sedinanza, appunto, a Dario. Perché passarlo, lo diceva anche prima Chiara, e mi auguro che lo sia davvero per i futuri giovani amministratori, è davvero un simbolo, un simbolo di un uomo che è nato, è vissuto, è cresciuto nella sua terra, nel suo mare, come pescatore, ha rivoluzionato questo piccolo borgo, ne ha fatto un modello di, e diciamo oggi si parla tanto di quella transizione ecologica, nel 2000 Angelo partì in 15 anni, aveva un depuratore, l'ho anche ricordato, uno dei primi in Italia, nel 2010, le famose vele di Lega Ambiente, e poi, vabbè, se ne sarebbero tanti da dirlo, l'ho anche ricordato. E tutto è stato fatto sempre con quella determinazione e con quella sicurezza di essere davvero, diciamo, nel giusto, nel rapporto con i cittadini, rispetto del cittadino e della sua legalità, un coinvolgimento pieno, pieno, pieno. Ecco, noi, come Cittasdò, come dicevo, allora abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi, so che anche, insomma, avendo frequentato Pollica, Pollica ha lasciato veramente, non solo un ricordo, ma tuttora una presenza importante. Ecco, quella presenza che comunque, concludendo l'intervento, lo ricordavo anche nella nota che ho mandato alla stampa, che comunque non finirà mai, proprio la memoria di Angelo, perché questa battaglia comunque fra bene e male, questa battaglia per la legalità, per la democrazia, per la partecipazione, non finirà mai. Ne a Pollica, negli altri paesi del mondo, lo vediamo purtroppo tutti i giorni, e Angelo è un protagonista di questa memoria, una memoria che è presenza, nel senso che sicuramente la memoria è l'avvenire del passato, ma anche la certezza del futuro che avremo. Quindi io ringrazio davvero Angelo, lo ringrazio tantissimo per quello che mi ha dato e ha dato a tutti noi, ha dato non solo a Città Slow, ma a Pollica, alle città, agli amministratori italiani, penso come esempio, mi ricordo dal funerale, quanti sindaci, quanti colleghi con le lacrime, proprio perché è stato ed è ancora il simbolo, il simbolo di come bisogna saper amministrare nel bene del cittadino, del suo mondo, dell'ambiente, di tutte le espressioni, diciamo così, dell'uomo, dalla cultura al turismo, eccetera. Davvero grazie a Dario, grazie a tutti coloro che hanno lavorato appunto con Angelo, e davvero un bacio ad Angelo. Grazie. Grazie Gianluca perché ci hai commosso tanto, quindi ricordando quei passaggi. Io apro il dibattito sia al pubblico che ai consiglieri, quindi chi chiede di intervenire do la parola finché siamo in una parte aperta del Consiglio Comunale, prima della delibera. Davoli. Sì, no, il mio intervento è solo per dire che il gruppo, il mio gruppo, vota a favore, pienamente convinto della cittadinanza onoraria a Dario Vassallo. Tutto qua. Grazie. Prego. Tosi, poi ti ho portato io un pezzo di cittadino onorario. Tosi, sindaco di Fiorano. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio il sindaco per avermi invitato. Lo rassicuro subito che non c'è nessun sentimento di invidia, nel senso che quando due anni fa, su mia proposta, il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese decise all'ononimità di conferire la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo, la nostra aspirazione non era mantenere l'esclusiva di questa cosa, ma anzi speravamo che tanti altri comuni facessero la stessa cosa e quindi mi rallegro pienamente con il Consiglio Comunale di Castelnuovo nei Monti. Io ho ascoltato, lo dico sinceramente, con anche emozione la testimonianza del tuo predecessore, Enrico, che ha conosciuto direttamente il sindaco pescatore. Io non l'ho conosciuto. Ho avuto la fortuna di conoscere questo sindaco attraverso, qualche anno dopo la sua morte, attraverso l'amicizia con Vassallo, con Dario, e due anni fa il Comune decise di dare la cittadinanza onoraria proprio come segno di testimonianza alla legalità. e le cittadinanze onorari, lo sappiamo, sono atti simbolici, abbiamo bisogno però anche di simboli, abbiamo bisogno soprattutto di esempi e di testimonianze da indicare, soprattutto ai giovani, in un momento poi come questo, in cui il mondo è completamente disorientato, continuare ad avere delle direzioni che sostanzialmente tengono in piedi quelli che sono i principi della nostra Costituzione, purtroppo il carattere democratico eccetera del nostro Stato ha avuto bisogno di sacrifici, di sacrifici umani. Il sindaco Angelo Vassallo è morto semplicemente perché ha fatto il proprio dovere e l'ha fatto fino in fondo. Questo è il compito che sarebbe di ciascuno di noi. Chi ha interpretato questa missione in modo sublime va assolutamente ricordato. il fratello Dario, io ho una grande ammirazione per lui proprio perché da quel giorno ha diffuso, addirittura non solo in Italia, ma anche fuori dai confini nazionali, questi esempi e gli insegnamenti maggiori, lo sappiamo tutti, sono quelli che passano attraverso le testimonianze concrete di persone, soprattutto quelle che hanno dato prova di massima coerenza. quindi io sto oggi, stasera per me è un bel momento, molto bello e posso dire che attraverso Dario Vassallo, che è cittadino onorario di entrambi i nostri comuni, la comunità di Fiorano Modenese e la comunità di Castelnuovo Monti da questa sera sono più unite. Grazie. Grazie Francesco Ci sono altri? Nadia Vassallo Sì, il mio cognome è una casualità, non siamo parenti, però la mia parte meridionale in questo momento è molto contenta perché finalmente al di là, diceva il sindaco di Fiorano Modenese che siamo molto più vicini come comuni, ma siamo molto più vicini anche proprio come Italia, come nord e come sud. L'esempio di Angelo Vassallo, quindi ringrazio anche Dario che è qui, è un esempio e che ce ne sono anche tantissimi altri che purtroppo sono poco, fino ad ora sono stati poco conosciuti. Mi spiace che proprio per un'uccisione del fratello si sia potuto arrivare anche ad una coscienza da parte di chi abita al nord che anche al sud ci sono persone che combattono tutti i giorni anche in piccoli paesi, in piccole cose, per la legalità perché delle volte questo concetto rimane un attimino isolato. Quindi ringrazio davvero, quando il sindaco ci ha proposto questa cosa che per me è stato veramente un riempire anche la mia persona di una certezza, perché sono tanti anni che abito qua però delle volte sento ancora alcune differenze e devono essere colmate, devono essere superate e come diceva prima quando eravamo al parco bisogna aprire la mente ma la dobbiamo aprire in tanti posti, in tante persone, non soltanto al sud. Forse al nord siamo un attimino pochino più aperti però bisogna anche andare oltre e questa investitura stasera è andare oltre. Molto. Grazie davvero. Qualcun altro? Nuccia Mola, Presidente di Lega Ambiente. Il mio vuole essere un piccolo omaggio un po' come ex assessore, perché quando è arrivata la notizia quella giornata lì eravamo in giunta con il sindaco Marconi e qui c'è anche il mio collega Paolo siamo rimasti veramente sbalorditi e questo mi è rimasto nel cuore e sono qui a omeggiarla per questo ma soprattutto anche come Presidente di Lega Ambiente perché credo che Angelo abbia anticipativamente mi sto un po' emozionando individuato la sostenibilità territoriale perché era una visione lui aveva una visione di un territorio soprattutto sulla bellezza sull'amore perché quella è la passione di un territorio a cui lui voleva bene a cui non si sente ripeto due parole basta insomma ripeto sono qui per omeggiare soprattutto la persona di Angelo perché come ex assessore eravamo proprio in quella mattina in giunta è arrivata questa dolorissima notizia che ci ha sconvolti tutti ciò che il sindaco poi è andato giù a Pollica a omaggiare e quindi uno due soprattutto come Presidente di Lega Ambiente perché credo che Angelo abbia avuto una visione del suo territorio di una sostenibilità territoriale ambientale questo binomio salute e ambiente che non era era all'avanguardia già allora quindi ha anticipato che aveva capito il senso di un territorio quando è sostenibile che ha una ricchezza inimmaginabile io credo che questo sia veramente il pallino che Angelo ha lasciato nel noi tutti e poi Angelo è stato avuto cioè è stato come dire ha avuto questa grande questo sacrificio che Angelo ha credo che abbia portato a essere qui non è stato in vano il sacrificio di Angelo perché altre volte molte morti restano in silenzio quello di Angelo fa la differenza quindi vuol dire che ha un proseguo e grazie a lei ha questa conoscenza che gli permette di portare avanti il suo pensiero grazie cari vuoi dire qualcosa se no sei venuto al nord così io intervengo perché parto da questa cosa sicuramente la cittadinanza onoraria è un fatto simbolico molto forte è il fatto che sicuramente Dario non ne fosse a conoscenza come tantissimi di noi ma questo è un simbolo tre volte potente il primo perché lega delle comunità lega Castelnuovo dei Monti ma lega Fiorano ma lega Pollica ma lega il nord e il sud su delle idee che ha saputo esprimere un sindaco pescatore che era l'altra faccia lui come ha spiegato a me tante volte del contadino custode che coltiva la terra lui coltivava il mare intervengo perché state facendo un fatto molto molto importante riconoscere a un sindaco che nelle sue funzioni viene ammazzato per quello che rappresentava un sindaco le sue idee io uso sta parola abusata ma è bellissima progressiste cioè difendere la bellezza non è semplice molte volte lo si fa ricordando una frase di altri ma quando poi si arriva e personalmente si va a raccogliere le bottigliere plastiche a salvare Uggiglio Marino a dire in questa piazza non ci starà più la bomba di benzina l'autorimessa di Pullman questi sono atti forti e per cui io intervengo perché veramente è un regalo che fate a tutti i sindaci e gli amministratori che hanno il desiderio di trasformare i loro cittadini non in abitanti di Castelnuovo dei Monti nel caso Rangelo di Pollica o repioppi o recannicchio ma trasformare quei cittadini in comunità e quindi trasformare in ognuno di noi e questa è la sfida che dobbiamo cogliere da cittadini affettivi di un luogo in cittadini attivi per quel luogo solo per questo vi ringrazio te Enrico il tuo predecessore che io ho conosciuto nel 2009 2010 era molto più giovane come eravamo giovani noi bene quelle idee quei buoni semi ci fanno trovare le parole per ricordare Angelo come la persona che vive perché le idee camminano quindi grazie a tutti voi io sono stato il segretario comunale che ha lavorato con lui per tutto il suo mandato ogni volta che vengo invitato per me diciamo che è un dramma perché sento che viene ricordata una persona che per me non è diventato sindaco per me per me Angelo Vassal era nato sindaco e non è facile far capire perché perché Angelo non parlava di idee politiche e non si scontrava su questo no lui la realtà che aveva intorno la trasformava nella sua idea politica aveva un induito che secondo me andava oltre anche quello che accadeva intorno voi lo definite un messia c'è qualcuno che dice che è una cosa che è venuto chissà da dove io invece che ho lavorato con lui spalla a spalla quindi proprio a contatto diretto tutti i giorni vi posso assicurare che era una persona straordinaria proprio come comportamento non ha avuto mai una discussione con me sull'applicazione della legge aveva le sue idee e penso che avesse anche dentro il sentimento del rispetto della legalità perché quando le proponeva le proponeva già con questa sua idea di non andare oltre io non voglio ricordare quello che ha fatto ma quando dico che ha rifondato il comune in effetti lo ha rifondato perché non esisteva il comune di Pollica esisteva sulle carte esisteva diciamo così sui documenti dove era scritto il comune di Pollica ma sostanzialmente non esisteva più un comune che aveva non aveva approvato i conti consuntivi di sette anni e di tre anni di bilancio insomma io come era possibile soltanto il suo coraggio il suo induito la sua forza e la sua capabilità a voler tirare fuori il comune di Pollica solo solo questo è stata quindi la cosa importante quindi la persona che sapeva dove voleva andare lui lo diceva sempre Pollica l'ombelico del mondo e io lo devo far conoscere a tutti lo devo far sapere a tutti che è così in cinque anni Angelo Vassallo ha risanato dal punto di vista ambientale tutto un territorio che è formato da cinque borghi in collina ha realizzato quasi 40 km di rete fognaria e rete idrica portandola a due impianti quello di Acciaroli e quello di Pioppi addirittura correggendo un dato che era anche un dato ingegneristico l'impianto di Pioppi lo ha trasformato da fisico chimico a impianto invece normale come doveva essere c'è solo il suo indubito la notte lui studiava le cose per realizzarle in cinque anni ha creato effettivamente un un comune lo ha trasformato e lo ha lanciato nel mondo lui quando parlava diceva sempre io parlo oltre i campanili perché la sua idea era questa io non devo realizzare qualcosa solo qua ma il mio comune vive nel parco parco nazionale dell'eccellente che è quindi un territorio uno dei più grandi d'Italia il mio comune è nel parco e quando io parlo e agisco penso al parco cioè l'emulazione quindi il trasferimento delle sue idee che camminavano sul territorio io vi ringrazio per quello che ho sentito qua la cittadinanza a Dario è una cittadinanza che va oltre anche certe idee e certi sentimenti perché il lavoro che lui sta facendo adesso quindi per capire che cosa è accaduto ad Angelo quella sera è è una cosa molto importante uno si annulla vedete si annulla io ho lavorato con lui da una parte all'altra della scrivania non abbiamo avuto mai uno screzio mai quindi quando è accaduto l'evento io mi sono portato dentro una parte sua una sua parte me la sono portata dietro e noi comunque lì nel territorio abbiamo avuto noi diciamo che abbiamo avuto un grosso danno perché speravamo che con Angelo tutto il Cilento quindi potesse risorgere e finalmente potesse avere quello sviluppo che tutti quanti abbiamo sempre pensato di avere e di uscire da quella cerchia angusta che ancora oggi ci attanaglia tutti io vi ringrazio e spero che questa serata sia una serata che faccia riflettere molto tutti perché ho visto che anche l'opposizione è presente la considero io l'opposizione l'ho sempre considerata il sale della democrazia di un'assemblea di un'assemblea comunale parlamentare qualsiasi assemblea quando c'è l'opposizione l'opposizione manifesta le sue idee la democrazia è realizzata vuol dire che sono tutti sentiti su un problema che riguarda la comunità perché l'opposizione rappresenta la comunità poi volevo rispondere alla presidente di lega ambiente volevo dire una cosa che lui diceva sempre ha avuto discussione con l'ambiente molte discussioni lo dico perché lo sentivo lui diceva sempre Gerard quando parlano di ambiente questi gli ambientalisti parlano di ambiente ne parlano soltanto ma nessuno mette i piedi per terra e calpesta nessuno cammina cammina nei boschi va a vedere che cosa succede nessuno si ferma a sentire come soffre il vento quando diceva questo aveva ragione perché noi oggi parliamo di politica scusate di quel mio pensiero correndo sulla sua idea è il mondo in cui vive una comunità che deve essere interpretata e proiettata nella politica e se noi facciamo questo teniamo presente sempre ogni angolo del territorio che abbiamo ogni angolo del territorio non possiamo assolutamente io quando sempre parliamo di bilancio parliamo di conto consuntivo non serve vedete è molto importante quello che ho visto lì in quel parco dove c'è un c'è un parco giochi per bambini perché c'è una comunità che è appena nata che ci fa prestare attenzione come vive quella comunità questi ragazzi questi bambini e quindi noi dobbiamo tornare su questo concetto di rispetto ambientale di rispetto lui diceva naturale le leggi servono ad applicare ad riportare nell'ambiente i nostri sentimenti e i nostri cuori perché se ci andiamo tutti con questa concezione vuol dire che parliamo anche con più educazione di rispetto tra di noi vi ringrazio se Dario vuole dire qualcosa altrimenti noi procediamo con l'assegnazione Enrico prima di tutto è stata una cosa che non mi aspettavo quindi come si dice una sorpresa però da questa sorpresa è chiaro che poi in pochi minuti ragioni e quindi io non faccio mai retorica quindi io ti ringrazio ma ringrazio questa amministrazione la maggioranza e soprattutto la minoranza che ha dimostrato il livello culturale politico e amministrativo di un territorio perché qui parliamo di un sindaco ucciso e di un percorso che ha fatto una fondazione per unire un po' i territori e per portare un'idea diversa di amministrazione quindi questo vostro agire indica come ho detto già al parco al giardino il livello culturale e questo è il punto chiave di ogni azione che noi dobbiamo affrontare in questo paese non possiamo delegare azioni importanti che non è certo la di cittadinanza che è anche la cittadinanza ma sono altre azioni importanti che salvano il territorio cautelano il territorio che lo portano lo proiettano nel mondo lo possiamo delegare a gente che non ha cultura ma la cultura si può anche costruire attraverso altri metodi e magari dopo si comincia piano piano ci si infiltra in un paese e poi magari quel individuo che era non colto si compra anche qualche laurea e magari in un territorio può diventare anche sindaco questo sta accadendo in tanti paesi del nord del sud del centro quindi sta accadendo in questo paese quindi la cultura intesa come esempio e come modo di vivere il quotidiano per cautelare il futuro dei bambini che andranno a giocare nel parco Angelo Vassallo sono onorato di questa cittadinanza perché quando sono arrivato ho detto c'è anche il mio sindaco adesso devo dire ci sono anche i miei sindaci perché è un passaggio importante per noi perché in queste cose a voi sembrerà strano ma anche attraverso queste cose si cerca la verità ogni piccola cosa che abbiamo fatto insieme che avete fatto senza di noi ma che avete fatto durante questi dodici anni serve per cercare la verità non siamo venuti a Castelnuovo dei Monti per raccontare una storiella siamo venuti a raccontare qua che l'esistenza di un paese è completamente diverso e che nessuno racconta come ha detto il sindaco prima che nessuno avrebbe mai raccontato se lui non avesse delegato Angelo a rappresentarlo e a rappresentare le città a Castelnuovo noi proprio per allacciarci a questo ragionamento abbiamo cominciato tanti anni fa un progetto che si chiama Polizia dei Fondali Marini che significa raccogliere la plastica il vetro tutto il materiale che i pescatori raccolgono nelle loro reti e abbiamo fatto un iter lunghissimo l'abbiamo estesa anche a altre marinerie abbiamo sono stato convocato e audito in Commissione Ambiente per la legge Salva Mare come per la nostra esperienza e adesso la settimana scorsa questa legge questa nostra esperienza Polizia dei Fondali Marini è approdata e è diventata legge dello Stato e si chiama legge Salva Mare ed è stata dedicata ad Angelo Vassallo noi abbiamo fatto un percorso lungo di cultura perché questa è cultura di cultura abbiamo imparato dai pescatori quello che serviva allora e quello che serva alla nostra comunità e quindi attraverso questo progetto che poi è diventata legge siamo stati ammessi dall'ONU a partecipare alla conferenza mondiale che si terrà a Lisbona dal 27 al 1 luglio quindi noi porteremo la nostra esperienza all'ONU quindi a livello mondiale perché una piccola fondazione come la nostra non viene ammessa facilmente se non ha una storia e la storia è fatta anche dalla cittadinanza è fatta di quello che voi avete condiviso con i ragazzi venendo ad Acciaroli venendo tutti gli anni il 5 settembre percorrendo migliaia di chilometri è questo che significa la fondazione io glielo ho spiegato e loro hanno accettato la nostra presenza e c'è arrivata l'ufficialità ma non finisce qua perché chiaramente se approvano il nostro progetto potremo parlare all'ONU per 90 minuti 90 minuti parlare all'ONU non è che lo danno al primo arrivato noi non siamo il primo arrivato noi siamo una fondazione che è legata sul territorio e ha la presunzione di legare i territori e gli amministratori comprese l'opposizione e che l'opposizione e la democrazia con Gerardo facciamo discorsi ogni giorno per telefono abbiamo squagliato i telefoni su queste cose non esistono i partiti esistono gli uomini che vogliono bene a un territorio vogliono bene a un paese poi quando si arriva a Roma si parla di idee politiche che non nessuno più vuole sapere noi parliamo di comunità è questo che noi insegniamo ai ragazzi di futura 2025 non facciamo una selezione se appartengono a qualche classe politica o qualche classe sociale noi vogliamo dei ragazzi che nel prossimo futuro due tre anni possono sedersi sugli scranni comunali o regionali o perché non a Roma e dire la loro ma non entrare in quelle lobby di potere economici o sociali e condizionare con una piccola premuta di un pulsante la vita che c'è a Castelnuovo nei Monti è questa una nuova idea di politica dove le porte sono aperte a tutte perché c'è il confronto perché noi non siamo nessuno veniamo in un posto per imparare come ho detto prima cosa è una cooperativa sociale o altre cose che come si coltiva il sottobosco che Angelo era 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 fissato con questa cosa e si poteva fare è questo che noi veniamo a raccontare quindi una cittadinanza serve a unire ancora più questo questo nostro legame che possiamo definire veramente amore ma non è una cittadinanza che voi date a Reuassallo è una cittadinanza che è data a tutti quelli che sono della fondazione io sono solo il presidente che ci metto la faccia ma il questo omaggio che voi ci fate questa questo regalo è per loro a tutti questi ragazzi che credono e vi posso assicurare che sono veramente tanti tanti tantissimi e soprattutto tanti sindaci che ormai cercano una speranza nella bella politica e quindi oggi voi avete fatto un'azione di bella politica con la B maiuscolo e la P maiuscolo grazie a tutti voi grazie Dario abbiamo anche aderito alla fondazione quindi come come giunta come consiglio comunale abbiamo fatto la settimana scorsa l'adesione alla fondazione quindi siamo assieme anche su questo percorso bene io procedo in questo momento e metto in approvazione appunto il conferimento della cittadinanza onoraria a Dario Vassallo quindi chiedo chi è d'accordo unanimità quindi e poi è prevista anche l'immediata esecutività quindi chiedo il voto anche per questo unanimità grazie l'ultima parte e dopo siete invitati vi invitiamo a un piccolo buffet tutti perché abbiamo cercato di chiudere in questo modo a Dario Vassallo per aver trasformato un dolore personale sconfinato in una forma di assoluto di dono dell'impegno continuo per la legalità e la giustizia centrato sull'educazione dei giovani promuovendo instancabilmente il dialogo tra generazioni la custodia la salvaguardia dell'ambiente lo sviluppo dei progetti che portano alla visione concreta di un mondo dove la politica sa costruire un'autentica poetica di relazioni sostenibili tra uomo e natura questo è il nostro conferimento alla cittadinanza onorale quindi ti invito a partire nel concludere vi invito a seguire un po' la scuola di formazione che inizia domani mattina ringrazio i ragazzi che una parte sono arrivati questa sera in queste due giornate si cerca davvero di promuovere la bella politica e cercheremo di farvi conoscere il nostro territorio dal punto di vista sia agroalimentare perché andrete a visitare un caseificio del nostro territorio vi faremo vedere l'ambiente quindi la pietra di bismanto dove domani inizierà la scuola anche i nostri prodotti tipici e soprattutto il calore alla vicinanza di questa comunità quindi grazie a tutti per essere qua adesso volevo anche ringraziare Monia Malvolti e Luca Tondelli che sono stati assieme a a Giovanna e quelli che hanno organizzato la cosa Monia Malvolti era in Corea con Angelo Vassallo qualche mese prima che era andata giù appunto e quindi se lo ricordava prima quindi la ringrazio di cuore anche lei perché ci ha aiutato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti